Domenica 27 ottobre, buongiorno amiche e buongiorno amici bianconeri, è match day, è il giorno di Inter Juventus, il giorno del derby d'Italia, che come vi ho già preannunciato in un precedente contenuto, ma ovviamente lo ribadisco, non mi verrà, tra virgolette, protagonista nella visione del match, quindi non sarò qui post partita per commentarla, perché purtroppo sono, o per fortuna, sono impegnato per lavoro con il derby, un altro derby, quello della palacanestro Forlì, contro la rinascita Rimini, quindi Rimini Forlì, derby di palacanestro, io sarò lì a seguirlo e quindi non potrò seguire Inter Juventus, purtroppo si accavaleranno spesso impegni di lavoro con i match della Juve, ma poco importa, quello che importa è che la Juve farà faccia, possa fare una grande prova, una grande partita, soprattutto una grande prova, perché al di là del risultato, che è chiaramente importante, quello che ci preme e che mi preme è che la Juve dia continuità, di crescita, di progresso, infatto di apprendimento, di mentalità e quant'altro, quindi mi aspetto una Juve che vorrà subito Voltar pagina, dimostrare di aver assorbito il colpo Stoccarda, perché quello è stato veramente il punto più basso della Juve di Tiago Motta, la speranza è che sia stato un incidente di percorso, servono anche gli incidenti di percorso per crescere, per migliorarsi, per capire attraverso gli errori come non ripeterli più e come fare contro altri avversari. Stando, e questo è quello che è un po' di clamoroso, se vogliamo, per quello a cui potremo andare incontro nel match delle ore 18 contro l'Inter, ci saranno novità clamorose di formazione. Mi rifaccio chiaramente a chi ha avuto modo di seguire l'allenamento, di capire un pochino le prove che sono state effettuate e anche a quello che ha riferito Giovanni Albanese, secondo il quale, secondo le sue informazioni, la Juventus potrebbe presentarsi in campo con diverse clamorose novità rispetto a quello che, ipoteticamente, sulla carta e considerando i giocatori disponibili, un po' tutti avevamo pensato. Perché, secondo Albanese, dovrebbero giocare Di Gregorio in porta, Savona a destra, Danilo e Nongatti con Calulu, Cambiaso a sinistra, a centrocampo Fagioli e Locatelli, con il, diciamo, tridente alle spalle di Edujan Blachovic, composto da Consejsao a destra, McKennie al centro e UEA a sinistra. Bene, capite che se così dovesse essere confermata la formazione, e sono prove verificate, cioè è una delle soluzioni provate nell'allenamento di ieri, capite quanto farebbero clamore le esclusioni di Hildiz, l'esclusione di Gatti, ancora una volta, l'esclusione di Turan, poi, vabbè, ci sono diversi infortunati, di conseguenza non potremo vederli perché Douglas Lewis non è tra i disponibili. E quindi, mi riallaccio un po' all'ultimo contenuto che avevo fatto, che peraltro vi ringrazio, perché vedo che alcuni hanno apprezzato il perché di certe scelte, o perlomeno il tentativo di spiegare come la scelta, ad esempio, di un'eventuale formazione di questo tipo, rispetto a, che ne so, tutti avremmo magari immaginato, Savona opaco con lo Stoccarda, gioca Cambiaso a destra, giocherà Cabala a sinistra, che invece era uno di quelli che negli ultimi tempi aveva meglio performato, rientrerà Gatti per contrastare la potenza fisica di Turan con Lautaro, insieme a Kalulu, a centrocampo Turan mai rinunciarvici, invece, e Kenanildiz, sì, sicuramente un po' appannato recentemente, ma con la possibilità di spostarlo alle spalle di Udujan Vlau, invece, probabilmente potrebbe finire in panchina. Siamo sempre nel campo delle probabilità, non via certezza. E vi dico una cosa, dovesse essere quella la formazione, lasciatemi i vostri commenti, partendo dal presupposto che vi rimando, qualora non l'aveste fatto, ad ascoltarvi il contenuto presente a questo, il perché di certe scelte, perché come vi ho raccontato, a volte gli allenatori, o meglio, spesso gli allenatori, si rifanno attraverso i propri collaboratori ai dati che gli vengono forniti per capire lo stato di forma, lo stato di recupero fisico di un proprio calzatore rispetto ad altri. Poi ci sono giocatori che giocano imprescindibilmente con gli 11 o gran parte degli 11 titolari, sempre e comunque anche con una gamba sola, piuttosto che mettere un giocatore in salute. Bene, io dal mio punto di vista non voglio giudicare in anticipo, come magari nel recente passato ho fatto, ad esempio quando contestai la presenza di McKennie in campo, salvo poi premettere, spero mi farà ricredere, e lo fece, perché magari fece una grande prova in Champions League, mi pare fosse contro il PSG in Dover, ma al di là di quello che mi pare, posso garantire che mi fece ricredere, fece una grande partita. Quindi non voglio cadere nell'errore di giudicare prima di aver visto, perché certamente Tiago Motta li vede tutti i giorni, sa meglio del sottoscritto, chi in questo momento gli dà più garanzie, anche alla luce di una questione che non dobbiamo dimenticare, che possa fare delle scelte in funzione del tipo di avversario che va a affrontare, e del tipo di tattica che intende adottare. Non dimentichiamoci che Tiago Motta, in Serie A, è l'allenatore che forse più di altri ha messo in difficoltà, proprio con il proprio Bologna, Simone Inzaghi. Quindi Simone Inzaghi che, avendo la squadra più forte, da un punto di vista della Rosa, mancherà Cialanoglu, probabilmente mancherà Cerbi, però resta sempre comunque la squadra con la Rosa più forte, più profonda, più lunga, e a mio modo di vedere resta la favorita per il campionato, nonostante un Napoli che va tenuto in considerazione, ma un Napoli che arranca, che fa fatica, però vince e quindi è giustamente da inserire nel novero delle squadre da temere e da considerare tra le favorite, però lui, Tiago Motta, che già in passato è stato più volte bravo ad imbrigliare le formazioni di Simone Inzaghi, magari ha scelto o sceglierà questa tipologia di formazione che vi ho descritto, che viene, ripeto, dalle considerazioni espresse da Giovanni Albanese, perché ci sono delle garanzie fisiche da parte di alcuni giocatori e magari tattiche da parte di altre. Ad esempio potrebbe aver scelto di propendere per un Savona piuttosto che un Gambiaso da quel lato, perché probabilmente Savona potrebbe dargli maggiori garanzie nella fase di contenimento di Marco. Dico delle assurdità, ma è per cercare di spiegare. Forse Gambiaso, da un punto di vista difensivo, potrebbe dargli meno garanzie. E quindi ecco perché magari Savona a destra e Gambiaso, che ovviamente a cui difficilmente si può rinunciare, si sceglie di mandare in campo dal lato opposto, sacrificando un Caval che stava andando bene. Quello che sicuramente mi lascia, quantomeno così in via iniziale, dovesse essere questa la formazione perplesso, sono le scelte di Danilo, che è stato disastroso contro lo Stoccarda, di McKennie e non Thuram, o se vogliamo di Fagioli e non Thuram, o se preferiti di Locatelli e non Thuram. Cioè secondo me in questo momento Thuram dovrebbe essere un elemento imprescindibile del centrocampo bianconero. Evidentemente dovesse essere questa la formazione che vi ho elencato prima per Tiago Motta, che è lui l'allenatore della Juve, che è un professionista e non è un allenatore da poltrona o un commentatore o un opinionista, sa meglio lui di noi quello che gli serve per cercare di imbrigliare la formazione di Simone Inzaghi come ritiene opportuno fare. Non so se sarà una partita da tanti gol, ad esempio Giovanni Albanese che ha dato questa formazione ritiene che sarà una partita da molti gol. Io invece ritengo che sarà una partita da under 2,5 per dirla in termini di scommesse. Io non scommetto, poi non sono certo qui a dire quello che dovete fare voi, ma so che c'è l'under e l'over. Ecco, quindi per dirvi che secondo me invece non sarà una partita da molti gol. Anche questa è una considerazione passibile di essere smentita tra qualche ora, però la mia sensazione è che questa non sarà una partita da molti gol. Detto questo, lascio spazio ai vostri commenti perché sono curioso di capire come la pensate. Magari fatemi la vostra formazione perché mai come oggi, veramente con un allenatore come Tiago Motta, siamo in difficoltà nel capire le scelte definitive. Aggiungo anche, perché prima lo volevo dire, poi non l'ho detto, ve lo dico adesso in chiusura, che io non disdegno affatto questa tipologia di allenatore, diciamo così, di modo di fare, di questo modo di fare, perché io credo che sia corretto da parte dell'allenatore tenere tutti sulle spine, tutti sulle corde, non dare per scontata una formazione o giocatori che saranno comunque in campo, perché serve per tenere tutti altamente concentrati, tutti altamente sulle corde, sulle spine, per guadagnarsi un posto titolare in una sfida così importante come il Derby d'Italia. Ditemi la vostra, ci sentiamo presto, come sempre. Buona domenica, poi, ripeto, non sarò qui post-interview, ma tornerò presto. Ciao.